Lui adesso ha detto che gli piace uscire, gli piace venire a giocare, tutto quanto. E' un calciatore che dentro l'area fa molto male. Questa è la caratteristica principale di un calciatore, soprattutto di un attaccante, e in base anche a quello che noi avevamo nella testa, di una crescita, di una punta, perché lui dovrà lavorare sodo, dovrà essere umile, dovrà migliorare perché avete fatto delle domande intelligenti, però lui ancora non capisce bene come gli deve rispondere, perché ha tanti aspetti su cui lavorare. Però la sua caratteristica principale è che fa valore.